E benvenuti ragazzi e ragazzi e bentornati, questo è sempre vostro amico il grande Mark e oggi siamo di nuovo su Pokémon Rubino Omega come ogni giovedì Beh ragazzi questo è il terzo episodio della seconda stagione Menosette a chi si è scossato le scatole di avere questa serie o a chi vi spazio di non avere, di togliere che vada di questa serie Siamo sempre appunto qua, risorto lotta dentro e viene lotta per qualche lotta Fletchinger ha la mamma proprio di quelle che fanno i biscotti potenti proprio che poi le gocce di cioccolato si spandono su tutta la carta da forno Allora ho provato a registrare dei video Cioè questo video l'ho provato a registrare, questa qua sarà la, spero la quinta e ultima volta perché mi sono veramente rotto le scatole Mi dà sempre dei problemi Ma enormi problemi Cioè che mi si stoppa durante la registrazione Io cristono e viva la telefono No, non cristono, però Nel senso Che mi si stoppa e mi dice memoria piena E vabbè Prima che avevo Minecraft Quindi un'applicazione in più con Camera FiLive PowerDirector Diciamo che c'era più Mi resisteva di più E non so manco io perché Ma mi resisteva di più Che adesso ne ho molte di meno di applicazioni Però vabbè Dettagli Quando avrò il tempo materiale Mi andrò a comprare sicuramente una scheda SD Ma sicuro quanto È vero che mi chiamo lì E il mio nome d'arte è il grande Mark Sì Sì Io sinceramente non vedo l'ora che finisca questa serie Perché mi sono rotto le scatole Vivamente Cioè proprio mi sono rotto le scatole Perché è un po' una palla Sì È un po' una palla Ritornerà in futuro? Non lo so Io spero che ovviamente Meno tre mancano Meno sette Quindi Al decimo episodio della seconda stagione Si concluderà Questa serie E E E Boh Si concluderà questa serie Ciao ciao Lo so E Verrà a susseguirsi Un'altra serie Che non lo so manco io Ancora adesso Però vi ripeto Scrivetevi sotto nei commenti Se volete Pokémon GO Come nuova serie Perché a me farebbe molto piacere Vi dico Mi farebbe molto piacere Perché magari a posto di usare Mobizen E di registrare sul telefono Magari avrei un altro modo di registrazione Perché Pokémon GO Ce l'ho sull'iPad Che in questo momento non vedrete Perché è di qua Dove punta Solgaleo E di là E quindi Magari Con l'iPad Si possono fare delle cose Magari anche con qualcun altro Si Se volete Tanto il telefono Il Nintendo mi si sta scaricando Ed è una cosa Ottima Veramente Quindi Io direi Lotta numero 10 Il telefono reggerà Spero di si Questa sarà l'ultima Lotta di oggi Ed è già tanto che siamo riusciti a farne tre È già tanto Faremo questa Sarà l'ultima E poi ci vedremo subito E poi ci vedremo subito lunedì E voglio dire Questa è l'ultima Un altro video E poi Ehm 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 Tra poco Un altro video Ehm 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 Ok Mi paralizza Per Velocizzare le cose Non voglio fuggire No Per velocizzare le cose Mando l'Ateos Così Mi risparmio Ehm 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 Allora Mi Mi stai veramente Iniziando A rompere Shinx Allora C'hai Uno spruzzo di vita così Quindi adesso Se l'Ateos Spitzlampo Perfetto Muori Muori Perché Spitzlampo Fa subire Contracolpa E sopravvivi Sopravvivi Con quale Scienza Riesce a sopravvivere Con quale Mitologia Pokemon Riesce a sopravvivere Ehm Infatti è morto Ondur Allora Per non rischiare Palombra Che Psicoshock Giusto Non ha effetto Anche se tipo Buio Le mosse tipo Buio Sui psico Hanno effetto Ma questi Sono solamente Cioè la donna Proprio brava A fare le cose Che si chiamano Biscotti Lo sai però Gengar Allora Gengar Ti prego Gengar Finisci Tu Il lavoro Perché qua Andiamo per le lunghe Grazie 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 Gengar Gengar Comentare E ci vediamo Domani Tra poco E domani Con un nuovo video Pica pica A tutti Perché sennò qua Andiamo a fare le lunghe Si spera che la vinca Gengar Gengar Grazie a tutti.